E chi non ha miliardi non può più fare l'informazione, perché siamo sepolti dalle situazioni in giudizio. Allora, una proposta importantissima, lo ripeto, è quella di rivedere la legislazione in materia di querela per le informazioni richieste di risarcimento di danni. Non è possibile che lasciamo tutto in mano a questo. Si creerà un duopolio, ripeto, per l'ultima volta, dove l'informazione la farà impunemente solamente chi ha miliardi, e chi ha miliardi sono, ahimè, purtroppo solamente i canali commerciali, e dove chi non ha soldi non potrà più farla perché viene sepolto in tribunale dalle citazioni. Questo va affermato, queste sì che sono le cose che vanno al cuore della libertà di informazione.